Il museo archeologico è emozionante per il suo insieme, perché non essendo un edificio adattato a museo, ma nato sostanzialmente come museo, ha una maestosità e una dimensione che colpiscono il visitatore che non è abituato. Però per vederlo, per cogliere il senso delle sue collezioni, forse è opportuno prepararsi e sapere prima che cosa non posso non aver visto nel museo. E quindi necessariamente sapere che dovrà vedere le statue colossali della collezione farnese, la tazza farnese, i mosaici e gli affreschi pompeiani, per esempio. Perché è l'unico museo che ha una quantità di affreschi come questa e che mostrano tutta l'evoluzione degli stili, del gusto nella decorazione delle case dal I secolo a.C. al 79 d.C. In nessun altro museo del mondo potrà trovare questa sequenza di affreschi come qui. Il Museo Archeologico di Napoli è il più grande contenitore di materiale di archeologia classica, nel senso di materiale di epoca romana. Sia perché c'è la collezione farnese con statuaria proveniente da Roma, quindi di qualità eccezionale. Ed è tra l'altro l'unica collezione rinascimentale che non è andata dispersa. Quindi il visitatore si potrà trovare davanti a giganti come l'Ercole farnese, il toro o la statua di Alessandro Severo. E poi può vedere solo qui l'enorme patrimonio restituito dalle città vesuviane. Il mosaico unico è il mosaico di Alessandro che è non solo una straordinaria opera di tecnica musiva, ma è anche un racconto storico che dal bambino delle elementari fino al nonno possono capire, rievocare, riandando con i ricordi della loro scuola o del loro sapere.